un saluto dal tg della mobilità con l'iniziativa fila via nel corso di quest'anno tutti gli abbonamenti agevolati metribus roma potranno essere richiesti anche online senza quindi recarsi in biglietteria lo fa sapere attack una semplificazione che riguarda sia le prime richieste che i rinnovi di abbonamento agevolato già ora la richiesta su internet può essere fatta per gli abbonamenti per le persone con disabilità e a fine mese la semplificazione verrà estesa agli abbonamenti mensili per disoccupati tra febbraio e giugno poi la campagna fila via verrà estesa a tutte le altre tipologie di abbonamenti metribus roma agevolati che quindi potranno essere richiesti o rinnovati direttamente sul sito di attack